Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico che scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 in direzione Firenze l'area di servizio di Migliarino Sud è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo catene o pneumatici da neve. Chiudiamo con i treni per lavori in A1 al viadotto sull'Arno non compatibili con la circolazione dei treni. Questo fine settimana interruzione della tratta ferroviaria Empoli-Firenze, servizio garantito con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!